Siamo sulla villa comunale. Vi voglio presentare il comitato della festa patronale di Santeria Fiumenapido. Da destra e sinistra il signor Mario Pacitto, dimamore Giovanni, il signor Serrantoni e Picano e Giuseppe. Dopo parecchi anni consecutivi abbiamo fatto questa festa. Questi anni abbiamo riproposto, ancora migliorandola di anno in anno. Buonasera, siamo il comitato di Santeria Fiumenapido, un paese della provincia di Rosinone. Questa è una festa che si promuove da parecchi anni. E spero che ancora durerà per parecchi anni, sempre migliorandola. Grazie. 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 anche l'emittente televisiva che è emittente per quella carica spirituale che nell'arte della giornata si trasmette a coloro che guarda a coloro che ascolta a coloro che si sintonizzano 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.